Ti sembro vecchio? Beh, effettivamente ho 58 anni, non sono più tanto giovane. Qualcuno dice che invecchio piuttosto bene, però oggi non voglio parlare dei miei anni. Voglio spiegarti con questo trailer per quale motivo definisco il mio canale YouTube Digital Store Network un paese per vecchi, cioè un luogo dove i contenuti sono stati concepiti per persone che appartengono alla mia fascia di età. Prima di andare a vedere il motivo però, la sigla, ma soprattutto ricordati iscriviti al canale e clicca sulla campanellina per attivare i contenuti che andremo a caricare nei prossimi video. Ora, sigla! Buonasera a tutti carissimi amici di Digital Store Network e vi trovate sul mio canale YouTube Un Paese per Vecchi. Perché lo definisco Un Paese per Vecchi? Io ho 58 anni, quindi non sono più giovane, è vero? Non sono vecchio, qualcuno dice anche che li porto bene ai miei anni, però il punto è che non sono più giovane. Però c'è un altro fatto fondamentale. Tutto ciò che io tratto, dalla mia musica alle basi audio in alta qualità, di brani famosi di fatti, ai contenuti che tratto sul mio canale che riguardano YouTube, Google, Gmail, Facebook, come per esempio poter aumentare le proprie entrate grazie al web marketing, sono tutti destinati a un pubblico che va dai 40 ai 65 anni. Per quale motivo dico questo? Allora, innanzitutto per un fatto. Il marketing è prima di tutto esclusione. Poi è ovvio che i miei contenuti potrebbero anche risultare graditi a persone che sono più giovani della mia fascia di età. Io questo lo spero, anzi ne sono convinto. Però quando io produco i miei contenuti, lo faccio tenendo presente che gli analitici del mio canale YouTube, della mia pagina Facebook, mi dicono che coloro che mi seguono sono compresi fra i 40 e i 65 anni. E' ovvio, c'è anche un pubblico di 18, di 20, di 30, di 35, ma il grosso sta tutto in quella fascia di età. E allora, quando io parlo per esempio di web marketing, non mi esprimo con degli inglesismi molto difficili. Non parlo come se dall'altra parte il mio uditorio fosse un esperto di certe cose. Se dico l'ending page, per esempio, poi specifico che è la pagina di atterraggio. Perché faccio questo? Perché so che dall'altra parte il mio uditorio non è particolarmente preparato in questi temi. Io non mi sto rivolgendo a degli esperti di web marketing, per cui certe cose sono assolutamente banali. Le devo specificare e lo faccio volentieri. Ma c'è un fatto però molto importante, del quale forse qualcuno non si rende conto, non si vuole rendere conto, che tutte le statistiche demografiche dimostrano che la popolazione del paese dove io vivo, l'Italia, sta invecchiando. I giovani sono sempre meno, ma sono sempre di più coloro che appartengono alla mia fascia di età e che però non invecchiano più come una volta. A 60 anni gli uomini e le donne si sentono ancora giovani ed alcuni, proprio grazie a questi sconvolgimenti che ci sono stati, in particolare per esempio per il Covid-19, devono reinventarsi dal punto di vista finanziario. Ed è a loro che io parlo. Non al trentennio, al venticinquennio, che ha già un brand, che sa già pubblicare i suoi infocorsi su web marketing o sulla Facebook advertising, la pubblicità su Facebook. Io non mi rivolgo a loro e non posso neanche competere con loro, ma non ci tengo neanche, perché il mio è un paese per vecchi. E attenzione che quando dico questo non è per darmi la croce addosso, non ha una connotazione negativa questo è un paese per vecchi. Assolutamente no. È semplicemente per semplificare, parafrasando un celeberrimo titolo di film, che i miei contenuti sono rivolti a quella enorme fascia di popolazione che sta invecchiando, ma invecchia molto, ma molto bene. E che di conseguenza nei prossimi 10-20 anni avrà sempre più sete di queste notizie. Anche le persone di 50, 55, 60 anni cominciano ad accorgersi che si può guadagnare con YouTube. Ed è per questo che io pubblico per loro dei contenuti basilari per insegnare a creare un canale, a gestirlo, a renderlo graficamente performante, ma tutta una serie di cose che non sono segreti, l'ho già ripetuto mille volte, non sono segreti, ma che aiutano le persone a incamminarsi come ho fatto io per arrivare a guadagnare con YouTube o a guadagnare con Facebook. Meglio ancora se sono nel mio settore, il settore dell'entertainment. Io faccio musica, sono quindi in questo settore. Ma non c'è bisogno di essere in questo settore. Puoi imparare ad utilizzare YouTube anche se vendi scarpe, se sei un ambulante, se sei una persona che fa il dentista. Non c'è bisogno di essere un produttore di musica. In ogni caso, io mi rivolgo a questa fascia di persone. Quindi non me ne vogliano i giovani perché magari uso dei termini troppo semplici, forse non uso troppi inglesismi, forse non dico in continuazione parole che poi sono incomprensibili per alcuni, ma lo faccio apposta perché voglio rivolgermi a questa fascia di età. E sono convinto che questo non è un errore, ma è un grandissimo pregio perché ricordatevelo, le persone di 45, 50, 60 anni saranno sempre di più e saranno persone sempre più curiose, sempre più interessate, anche per necessità al mondo del web perché tutto sta cambiando troppo velocemente. Non solo perché tutto cambia molto velocemente, ma perché la storia di questi mesi ci insegna che possono arrivare delle maree che spazzano via tutto e se lì sei impreparato hai bisogno poi di accelerare per stare dietro al passo e magari reinventarti. Con questo è tutto, ci vediamo al prossimo video trailer. Grazie! Grazie!